Una delegazione iraniana è stata ospite a Bari di Railmed, il workshop promosso da Ferrovie dello Stato italiane, con l'obiettivo di migliorare dal punto di vista tecnico, economico e culturale la cooperazione tra Italia e Iran per trasferire know-how e tecnologie e porre le basi per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie che facilitano la connessione tra Europa e Medio Oriente. La Repubblica Islamica dell'Iran sta vivendo uno sviluppo economico e politico estremamente interessante dal punto di vista degli investimenti in campo infrastrutturale. All'interno di questo processo di cooperazione, la Puglia, con il suo osservatorio sulle infrastrutture e i trasporti nel Mediterraneo, svolge un ruolo di vera e propria incubatrice. Nel corso del workshop, la delegazione iraniana ha potuto incontrare e confrontarsi con i rappresentanti del gruppo FS e di alcune aziende private che operano nel settore della logistica e della tecnologia con gli esperti della Unimed. La delegazione iraniana ha visitato la sala di comando e controllo della circolazione ferroviaria di Bari-Lamasinata, impianto di formazione treni di Bari e alcune aziende leader nel settore della logistica e della tecnologia presenti sul territorio.